Le opere di Paolo Baraldi, H. Il Baro, sono caratterizzate da alcune peculiarità, tutt'altro che banali, che rappresentano la cifra distintiva di questo artista. Da un lato, infatti, Il Baro è un graffitaro che sceglie per le proprie opere non muri esposti al quotidiano passaggio di persone, quanto piuttosto luoghi dimenticati, in cui la vita un tempo pulsava, ma di cui nessuno ora sembra più ricordarsi. D'altro canto, proprio in questi spazi, attraverso la dominanza del bianco, l'artista riporta la vita. Crea forme che sembrano espandersi, crescere senza limiti, fino ad occupare tutto lo spazio disponibile in una sorta di promessa di crescita senza fine. Siano radici che scalano una ciminiera fino alla sommità, siano misteriose creature che allungano le proprie appendici lungo il letto prosciugato di un canale, siano dita che si riprendono una fabbrica abbandonata, riportando una forma organica laddove la vita ed il lavoro non sono più. Attraverso questi tratti caratterizzanti, attraverso questi recuperi estetici, l'artista porta a compimento una sorta di coraggiosa rivoluzione personale. E così, un motto tipico dell'umanesimo, Homo Artifex Fortunae Sue, sembra riecheggiare nella tag che accompagna molte opere del baro, Be Your Revolution.